Anche quest'anno alla seconda edizione del festival ci tenevamo tantissimo e saremo quindi collegate in streaming con tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti a partire da giovedì 5 novembre, la prima edizione di questo festival tutta online. Il 5 novembre alle ore 18 avremo il primo collegamento con Vera Geno e Lorenzo Gasparrini che presenteranno all'interno dell'iniziativa I percorsi delle parole, i loro due libri Edizioni FQ, Vera Geno con femminili singolari e Lorenzo Gasparrini con No, l'importanza di un uomo e di una donna che si confrontano sul tema del linguaggio, del femminismo e della comune impegno verso la prevenzione della violenza di genere. Anche attraverso le parole. Poi venerdì 6 novembre, secondo appuntamento, partiamo alle ore 16 in streaming con due ospiti a noi molto care, la ministra per le pari opportunità e per la famiglia Maria Elena Bonetti e la presidente della fondazione Belisario Lella Golfo. Due donne, due donne delle istituzioni che si confrontano su un tema che è quello delle pari opportunità e dell'economia nel 2020. Quindi per noi era importante parlare in questo anno in particolare di come le donne sono state chiamate ad affrontare la pandemia da Covid-19, di qual è stato il ruolo all'interno della società delle donne nel lavoro di cura e nel lavoro quotidiano. E quindi di questo discuteremo con le nostre ospiti. Ancora, il giorno successivo, a chiusura del festival, sabato 7 novembre, cominceremo la mattina alle ore 11 con nostra ospite Stefania Prandi, giornalista, scrittrice e fotografa, la quale presenterà il libro che ha pubblicato recentemente con le edizioni 7-9, dialogando con Monica Martinelli, fondatrice della casa editrice 7-9. Il libro si chiama Le conseguenze. Stefania accende una luce su chi resta dopo i femminicidi, quindi le storie non solo di queste donne che sono state ammazzate, ma delle persone che accanto a loro sono rimaste, i padri, le madri, i fratelli, le sorelle, i figli di queste donne. Questo libro è diventato anche una mostra fotografica che porteremo a Pesaro. L'apertura è prevista per sabato pomeriggio alle ore 16 presso lo Spazio Bianco in Via Zongo, salvo modifiche dovute all'imminente DPCM in uscita. Quindi se non sarà possibile portare la mostra perché saranno chiusi i musei, ci impegniamo comunque a portarla quanto prima al più presto perché sia visitabile nella nostra città. È una mostra molto molto forte ma davvero importante per il messaggio che porta. Concludiamo sabato 7 novembre il festival con la diretta Percorso Donna con Tè speciale edizione percorsi. Alle 17 con la nostra tazza di tè, come abbiamo fatto durante tutti i mesi del lockdown, ci troveremo insieme e racconteremo e parleremo dei temi a noi cari. Questo è un appuntamento per noi particolarmente importante perché è la testimonianza di quello che è stato il nostro non fermarci durante i mesi della pandemia. Abbiamo sempre pensato che fosse importante continuare a stare accanto alle associate, ma anche alle donne e agli uomini che in quel momento così difficile, chiusi in casa per la prima volta in lockdown, avevano bisogno e desiderio di continuare a sentirsi vicini anche a distanza. Quindi ci vediamo per l'appuntamento di sabato 7 novembre all'ora 17 con Percorso Donna con Tè, nel quale lanceremo anche la presentazione dei gingilli bijoux, il regalo che quest'anno è stato fatto da Deborah, autrice dei gingilli bijoux, a Percorso Donna. Deborah ha realizzato il gingillo come quello che portò al collo con l'immagine di tre donne che abbiamo raccontato durante i mesi di lockdown e abbiamo scelto di portare con noi sempre come esempio di quello che si può fare attraversando il tempo e gli anni e la storia. I pazzi ad Alessandra, Artemisia Gentileschi e Mary Jackson sono le tre donne che abbiamo raccontato, che racconteremo e continueremo a portare con noi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.